Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Torniamo a parlare di crisi sulle terre infinite, mega crossover dell'universo della network CW, conosciuto anche come l'arroverso, anche se in realtà più che un universo si può parlare di multiverso. E il problema era proprio questo, perché il crossover, riassumo per chi venisse da un altro pianeta, parla proprio di come ci sia stata un'onda di antimateria che ha cancellato tutti questi multiversi, tutte queste terre infinite. Abbiamo visto tre delle cinque puntate nel mese di dicembre e in questi giorni mancavano le ultime due puntate. Tutte le puntate si sono svolte nei rispettivi show principali della CW, quindi siamo partiti con Supergirl, dopodiché siamo andati in Batwoman, dopodiché siamo andati in Flash. Mancavano gli ultimi due episodi, uno ambientato nella serie tv Arrow e uno in Legends of Tomorrow. Parlo con voi oggi di quello ambientato in Arrow. Prima però di cominciare di andare nel succo del discorso, vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che amano le terre parallele e di commentare il video con i vostri pensieri, parole, opere e omissioni. Ma devo dire anche una cosa in più, che tra i miei primi tre video che ho fatto a dicembre sui singoli episodi del crossover e questi video che arriveranno, quindi quello di oggi e il prossimo video sul quinto episodio, io nel mentre, nel frattempo, ho fatto anche una live, non sul mio canale, ma sono stato ospite di Atex02, non su questo sito rosso che è YouTube, ma sul sito Viola, quindi poi vi metto magari il link in descrizione, Atex Channel, tutto attaccato, andate a vedere la live in cui sono stato ospite. Bene, bando alle ciance, cominciamo. Allora, il crossover, la seconda parte del crossover, quindi parlo sia del quarto che del quinto episodio in generale, poi mi focalizzo sul quarto, devo dire che l'ho sentita io un po' più sottotono rispetto ai primi tre episodi. Nei primi tre episodi c'è stata molta carne al fuoco, abbiamo visto un sacco di cameo all'inizio, anche molto gratuiti, però molto succulenti, molto curiosi, abbiamo visto un piccolissimo cameo del Batman dell'89 di Tim Burton, abbiamo visto un piccolo cameo di Bart Ward, il Robin della Terra 66, del Batman del Telefilm del 66, abbiamo visto il Superman di Smallville, abbiamo visto il Superman di Brandon Root, di Superman Returns, abbiamo visto il Flash 90, che ha avuto un ruolo molto piccolo, purtroppo, ma fondamentale, ovvero quello di impedire al nostro Flash, o meglio, il mio Flash è quello degli anni 90, perché c'ho una certa età, diciamo, al Flash dell'Hurroverse, di svanire nella crisi, il famoso titolo di giornale che incombeva da diverse stagioni su Barry Allen, sul coppino di Barry Allen, Flash svanirà nella prossima crisi, per poi scoprire che il Flash, il Barry Allen che svanirà nella prossima crisi, è il Barry Allen di Terra 90. Vabbè, tanto rumore per nulla, ma si sapeva, perché chiaramente Flash doveva continuare, la serie TV di Flash doveva continuare, quindi hanno trovato questo escamotage molto carino. Si è concluso ciò nonostante con la vittoria dei cattivi, in questa prima parte, composta dai primi tre episodi, un po' come, ma cos'era quella cosa? Un po' come Infinity War. Sembra che abbiano un pochino copiato questa cosa. Chiaramente hanno fatto bene a copiare da un film da cotanto successo, però non c'era arrivato all'inizio. Hanno copiato un po' questa cosa, questa vittoria del cattivo nella prima parte del crossover, negli episodi di dicembre. E hanno copiato anche qualcosa da endgame in questo episodio. Mi riferisco al fatto che Arrow è a tutti gli effetti l'Iron Man dell'universo della CW. Gli mancava solo di finire la sua epica conclusione del suo viaggio, che l'ho accompagnato per otto stagioni, con Io sono Arrow e sarebbe stato il top. Ma non sto criticando la cosa, anzi, mi è anche piaciuta questa levissima citazione a Infinity War e a Avengers Endgame. Oltre al fatto che, non so se avete notato, a ogni taglio scena in cui c'era un'ambientazione diversa, c'era la città scritta in grande, proprio come nei film dei Fratelli Russo, da Captain America a Civil War fino ad arrivare a Endgame. Quindi, citazioni a parte, fuori dall'universo DC Comics, questa puntata è focalizzata, appunto, essendo ambientata in Arrow, ma è focalizzata su quello che è diventato Arrow per combattere l'antimonitor. Non si parla più di Arrow, si parla di Oliver Queen, al fantasma di Oliver Queen che si trovava, appunto, in Purgatorio, che è diventato qualcun altro, è diventato qualcos'altro. Quindi, non so se vi torna questo, questo motto di Oliver Queen che ha sempre detto nella sigla di Arrow e anche questa volta per combattere una minaccia molto più grande di lui, molto più grande delle capacità, delle possibilità di Arrow, si è trasformato nuovamente in qualcos'altro e è asceso di nuovo a qualcosa di superiore, ovvero è diventato Spectre o Spettro, che dir si voglia. Spettro è un personaggio della DC Comics che c'è davvero stato nel crossover fumettistico Crisi sulle terre infinite ed è appunto il nome è proprio Jim Corrigan, così come era l'amico di Oliver Queen nel telefilm Arrow. E nel in questo maxi librone che è Crisi sulle terre infinite fumettistico noi vediamo proprio Spettro Spectre Spectro che combatte con un gigantissimo anti-monitor così come si può dire è successo anche in questo in questa puntata in questo episodio di Crisi sulle terre infinite quindi da questo punto di vista mi è piaciuto molto che appunto l'Iron Man della CW il personaggio Focus dell'Arrovers che è appunto Arrow ha avuto un ruolo così importante proprio perché si è trasformato in Spettro perché se fosse rimasto Arrow non avrebbe avuto questo grandissimo ruolo proprio perché è privo di poteri e proprio perché anche nella Crisi sulle terre infinite a fumetti Arrow non ha avuto un ruolo di rilievo l'unico modo l'unico no però uno dei modi più pittoreschi per dare a Oliver Queen un ruolo non di rilievo ma il ruolo forse più importante per sconfiggere il cattivo è stato quello di trasformarlo in Spectre oltre al fatto come ho già detto nello scorso episodio andatevelo a vedere nel mio video in cui dico che era molto probabile questa trasformazione anche perché visivamente il personaggio di Spettro nei fumetti ha lo stesso cappuccio verde che ha Arrow nel telefilm Arrow a differenza appunto di molte sue incarnazioni fumettistiche e quindi è stato quasi un richiamo anche al suo costume classico vedete ha questo mantellone verde questo cappuccio che può ricordare un po' il cappuccio di Arrow poi chiaramente il costume cambia e tra i suoi poteri appunto diciamo ha dei poteri magici più che dei veri superpoteri infatti si unisce con altri maghi della DC Comics per sconfiggere l'anti-monitor tutto questo nel telefilm non viene spiegato benissimo semplicemente Oliver Queen acquisisce dei poteri dei poteri sovrannaturali che gli consentono di fare cose tra cui combattere in prima persona a mani nude l'anti-monitor per arrivare però a questo scontro finale diciamo l'episodio è un pochino introspettivo praticamente vediamo i nostri eroi dove li abbiamo lasciati in questo punto di inizio al di fuori dello spazio del tempo dove Paria o Paraya aveva trasferito appunto i campioni i Paragons i Paragons della verità della speranza del coraggio eccetera eccetera li aveva trasferiti per poterli salvare in modo che salvassero a loro volta il multiverso da qui dal nulla spunta appunto Arrow che cerca di aiutarli come fa cerca di condurli nella forza della velocità dove appunto c'è questo specie di viaggio mentale di Barry Allen di Flash che per qualche ragione deve comunque ripercorrere i passi di alcuni di questi eroi per poterli riportare dove vogliono andare perché in questo viaggio nella forza della velocità l'antimonitor mette i bastoni tra le ruote e quindi si disperdono però tutto questo non è spiegato assolutamente bene lo dice in una frazione di secondo Oliver Queen barra spettro ma non c'è questo senso di pathos che ti fa capire che oddio stavamo facendo una cosa siamo stati interrotti questa cosa è stata non portata a buon fine come dovevamo adesso dobbiamo raccogliere i pezzi tutto questo è molto confuso fatto sta che c'è questo viaggio introspettivo che potrebbe servire metaforicamente per far capire alcuni concetti ma anche quelli sono molto tirati per i cappelli non sono tanto belli neanche da sentire perché sono un po ripetuti l'unica cosa bella è vedere come si chiude la bromance l'amicizia fraterna tra Oliver Queen e Barry Allen perché appunto nella forza della velocità vediamo i loro momenti insieme salienti tra cui il loro primo incontro che è avvenuto in un episodio della seconda stagione di Arrow mi sembra dove Flash ancora non era Flash o comunque lo era da poco è stato bello appunto chiudere il cerchio sempre all'inizio di questo episodio c'è Arrow o Oliver Queen che dir si voglia che dice il suo ultimo Run, Barry, Run cioè corri, Barry corri a Barry Allen frase iconica che ha detto il primo Harrison Wells della prima stagione che poi in realtà era l'anti-Flesh in incognito però è la tipica frase di Flash che in questo episodio Oliver Queen dice a Barry Allen per l'ultima volta in questo viaggio nella forza della velocità c'è anche un fantastico incontro un fantastico cameo cioè quello con il Flash di Ezra Miller molto simpatica come cosa ma altrettanto gratuita perché comunque siamo in un momento nella storia in questo Crisi sulle Terre Infinite dove tutto il multiverso è stato cancellato di conseguenza non ha molto senso che questo Flash di Ezra Miller sia presente allo Star Labs quantomeno perché è stato fatto? Puramente perché Ezra Miller e la Warner Bros hanno concesso la possibilità di far vedere il Flash di Ezra Miller in questo crossover aggiungendolo ai tantissimi camei che ci sono stati e comunque di per sé è una cosa molto figa solo che è spiegata anche questo poco e ti fa pensare ma come come è possibile se hanno annullato gli universi perché dovrei vedere il Barry Allen di un'altra Terra? Allora siamo comunque nella forza della velocità quindi può essere che così come ci è arrivato Barry nonostante sia vivo perché è stato salvato da Paraya può essere che anche l'altro Barry Allen di quella Terra per qualche ragione sia si trovi nella forza della velocità in quel momento e sia attratto da un altro Barry Allen e quindi si incontrino se volete una spiegazione interna alla narrazione se volete una spiegazione papale papale è perché sono riusciti a infilarlo in quel momento e tant'è e lo prendiamo così è stato carino un po' gratuito ma comunque carino in questo viaggio si arriva finalmente al terzo atto dove i nostri eroi si dividono in due gruppi un gruppo va a 10.000 anni or sono per parlare con Mar Novu ovvero il vero nome di Monitor che si scopre essere uno scienziato di un pianeta che già 10.000 anni fa era super avanzato tecnologicamente tanto da esplorare il viaggio nel tempo per convincerlo per dissuaderlo a intraprendere questa sua invenzione perché Mar Novu ovvero Monitor invece di viaggiare dove vorrebbe andare lui ovvero all'alba dei tempi per qualche ragione si ritrova in un universo meglio in un multiverso di antimateria quindi scopriamo che oltre a esserci un multiverso di materia c'è anche un multiverso di antimateria Adrian Fartade se mai vedessi questo video scrivici sicuramente è possibile perché no fisicamente è possibile però perché lo spiegate così buttato così a caso ditelo già prima praticamente mostrano come questo monitor sia andato per sbaglio invece che andare all'alba dei tempi sia andato all'alba dei tempi di un universo fatto di antimateria e questo abbia innescato una reazione a catena che ha portato agli eventi di crisi sulle terre infinite ovvero risvegliare un suo doppio un suo antimonitor appunto che per qualche ragione siccome è anti siccome è l'opposto del monitor nostro allora deve essere anche cattivo quindi per qualche ragione vuole annullare tutto l'universo tutto il multiverso fatto di materia anche se vabbè non so se una cosa potrebbe vivere senza l'altra ma non hanno voluto spiegare questo concetto filosofico fatto sta che questa cosa cercano di impedirla cercando di dissuadere monitor da viaggiare all'alba dei tempi e ci riescono riescono a convincerlo nonostante ci sia anche l'ex lutor che con uno dei suoi piani malvagi macchiettistici cerchi di rivoltare la situazione a suo vantaggio ciò nonostante il paragone dell'umanità il nostro dottor Choi riesce a convincere Marno Wu a non avviare la sua macchina l'altro gruppo l'altro gruppo di supereroi doveva invece andare appunto all'alba dei tempi a cercare l'antimonitor per sconfiggerlo sul nascere e scoprono che nonostante il paragone il campione dell'umanità fosse riuscito a convincere Marno Wu a non attivare la macchina scopriamo appunto dall'antimonitor che comunque ci sono migliaia di versioni di Marno Wu delle altre terre infinite che invece sono riuscite ad attivare comunque la macchina hanno comunque viaggiato all'alba dei tempi risvegliando il multiverso di antimateria di conseguenza non è servito a niente e quindi devono comunque combattere fisicamente con l'antimonitor ed è qui che appare il nostro Oliver Queen barra Arrow barra Spectre barra Iron Man dell'universo CW che con tutta la sua possenza combatte contro l'antimonitor in una battaglia che mi ha ricordato molto la battaglia finale delle bacchette tra Voldemort e Harry Potter e anche una onda energetica tra Gohan e Cell questo è stato molto bello non è stato molto bello quello che c'è stato di contorno ovvero gli altri eroi e l'ex Luthor che combattono diciamo gli scagnozzi demoniaci dell'antimonitor e a un certo punto per aiutare Spectre a far rinascere l'universo e non sto dicendo universo a caso devono focalizzarsi su di lui come fanno per focalizzarsi su di lui semplicemente guardandolo e sembrava davvero un messaggio di quelli di pace di quei filmini fatti da qualche religione strana però vabbè non c'è stato nulla di davvero fisicamente bello da vedere potevano fare in modo che in quanto campioni sviluppassero una strana vista e dessero visivamente dessero un maggiore spessore a quello che stavano facendo cioè guardare Spectre creare un nuovo universo ogni campione doveva guardare Spectre creare un nuovo universo concentrandosi su ciò per cui era campione quindi il dottor Choi doveva concentrarsi sull'umanità Batwoman doveva concentrarsi sul coraggio Supergirl doveva concentrarsi sulla speranza Flash doveva concentrarsi sull'amore Sarah Lance doveva concentrarsi sul destino e Martian Manhunter doveva concentrarsi sull'onore e Lex Luthor che appunto ha preso il posto del Superman di Brandon Ruth di Terra 96 doveva concentrarsi sulla verità ma è Lex Luthor lo avrà fatto? Lo scopriamo insieme nel prossimo video in cui parlerò dell'ultimo episodio del crossover crisi sulle terre infinite quindi solo per ora con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video